La sezione distaccata di Taranto della Corte d'Appello di Lecce, presidente Fanizia, Latere Elisi e sei giudici popolari, ha condannato a 24 anni di carcere per omicidio volontario Beniamino Ligorio, 34 anni originario di Villa Castelli, l'uomo che il 20 giugno 2014 uccise con un colpo di pistola alla testa la sua comevente, Fiorenza De Luca, di 29 anni nell'appartamento della coppia Grottaglie. E' stato così cancellato l'ergastolo che l'imputato difeso in questo processo dell'avvocato Stanislao Massari aveva rimediato in primo grado. In appello è caduta infatti l'aggravante dei motivi abbietti. Ligorio sostiene che il colpo di pistola partì per sbaglio da una pistola scacciapaccani modificata che avrebbe trovato in campagna e con cui stava giocando in casa. Secondo gli inquirenti avrebbe ucciso per gelosia la donna madre di due bambini al termine di una lite. Fu lo stesso Ligorio a chiedere l'intervento del 118. La Corte d'Assise d'Appello ha confermato il pagamento delle provvisionali nei confronti dei familiari della vittima che si sono costituiti parte civile con gli avvocati Gaetano Di Marco e Antonella De Marco.